Ciao a tutti da Poderak, bentornati qui su Farming Simulator Emergency Questa volta siamo con Luigi in un video particolare In un video particolare, cosa faremo oggi Luigi? Oggi faremo il giro di? Italia, la Tour de France La Tour de France, chi lo sa? Siamo in Italia quindi direi giro italiano In poche parole abbiamo allestito una specie di campo con la possibilità di far girare Le biciclette che vi faccio subito vedere Ci sono già le auto della polizia pronte L'ambulanza qui che scorterà praticamente le auto Le biciclette qui che correranno, i corridori ancora devono arrivare Tu dove sei Luigi? Seguimi, seguimi Abbiamo qui l'auto ACI che sostituirà nel caso dovessero bucarsi le gomme Anche se giocheranno a dei vecchietti Qui ci sarà il capopista e successivamente vediamo il resto della mappa Allora Luigi facciamo così Prima che arrivano le persone che dovranno correre Cerchiamo di andare ad analizzare bene il campo Con il campo, la pista che abbiamo organizzato Tu prendi la macchina della Polizei qui davanti Sì, e facciamo un giro di ricognizione E facciamo un giro e io vado a mettere dopo i coni dove mancano Perché qui dietro ho qualche cono e qualche lampeggiante da mettere Non incidentare le bici possibilmente, per favore Se no succede un disastro E accendi i lampeggianti, non le sirene Ok, perfetto Vai, vai, vai Sì, la scritta Polizei Non siamo riusciti a sistemarla Ma è già qualcosa La skin della polizia di Antonio 428 Allora, vediamo un po' Fermo qui Andiamo a spostare un attimo la macchina della polizia qui che chiude il traffico Facciamo entrare, entra pure Ok Ok, entra pure Dritti, giusto? Sì, andiamo dritti Così vi faccio vedere il giro Vai, vai In teoria, qui è la partenza Sopra il ponte Cioè, dove c'è la riga qui del ponte La partenza e l'arrivo Nel frattempo abbiamo messo queste staccionate qui Lampeggianti Al fine di Ehm Fargli capire Dov'è la strada che devono seguire Poi Poi, poi, poi Davanti Abbiamo altre staccionate Qui Vai, vai, vai Corri Vai un po' più veloce Queste sono Ecco Qua mettiamo ad esempio Un lampeggiante Apriamo dietro Mettiamo un lampeggiante Vediamo se riesco a prenderlo Oddio E ora come faccio a prenderli Apriamo anche dietro Questo qua Perfetto Così Vale una mano? No, no Non li vedi Allora Vediamo se l'ho preso uno Sì Ne ho preso uno Perfetto Tu lo vedi il birillo? No, non credo in mano Eh, non lo vedo bene Oh, l'ha vista un po' affuscata Eh, l'ha vista un po' affuscata Mettiamo questo qua Ok, si si gira No, no L'ho sparato, cavoli L'ho sparato giù Vediamo se lo riesco a prendere Maledetto Ok Lo mettiamo Più o meno qui Dai Suck No Houston abbiamo un problema Allora Questo birillo non rimane in piedi Dai, rimane in piedi Ok È rimasto in piedi Perfetto Chiudiamo di nuovo tutto No, com'è che si chiude? Qua Chiuso Chiuso Ho sbattuto proprio le porte Vai 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 avanti Ah, vado Vai 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 Che così Togliamo i lacci che non servono Ma è un po' più Con una velocità più sostenuta Ecco, per esempio Qui un altro birillo Lo metterei Vediamo qua Tac Un birillo lampeggiante Birbantello No, più che birillo Dimmi che l'ho preso Sì, l'ho preso Un lampeggiante Lo mettiamo Lo buttiamo qui Uno E anche se non è dritto Questo vabbè No, oddio Ne ho neanche sparato però così Prendiamo questo Luigi nel frattempo Controlla che nessuno Entri nella pista Esatto Perché qua Ci sono molti curiosi In questa città Molti criminali Ok, va bene Perfetto Chiudiamo Andiamo Luigi Andiamo 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 Qui abbiamo un altro collega Della Polizei Polizei Eccolo qui Ciao collega Ciao collega Come stai? Tutto bene? Allora In poche parole Vedendo la mappa Se ve la faccio vedere Sì che la posso far vedere In pratica Questo è il giro Si parte di qui Si fa così Vedete il mouse? Sì che lo vedete? Fa così 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 E così In pratica è tipo Una scamorza La pista scamorza È a X Adesso siamo praticamente A metà giro E questa pista La cosa strana Di questa pista È che È gigantesca Le bici vanno Molto lente Perché Scusi Si può Andiamo Ok Allora stavo venendo A spingere Andiamo Andiamo Qui è ambientato In Lombardia Sempre No Boh Toscana No c'è una polizia Locale Lombarda Però è venuta in supporto Per la bianchiamata Ok No qui siamo Perché siamo? Siamo al confine Tra l'Emilia Romagna E la Toscana Salutiamo tutti i colleghi Qui Colleghi Ciao colleghi Tutto bene? Collega Come fai a dire Che siamo al confine Tra l'Emilia e la Toscana? Eh vedi qua Il Po Il Po Dove è che lo vedi Il Po? Scusi Mi scusi Mi può dire Dove è il Po? Non lo vedo io Ah eccola qua La polizia lombarda Eccola Questa Poi si gira A sinistra Salutiamo Il Sergente Il Sergente Beh in realtà Il Sergente Non credo esista Come Maresciallo Usu Ecco qua Poi qua A sinistra Ah ok Qua a sinistra E poi ce l'arrivo Collega Poi vada un po' più avanti Perfetto Allora Vieni qua Vieni qua Luigi Vieni Seguimi Arrivo Allora Quella macchina Lasciala Qui Tipo qua Lungo questa strada Così Dove Non lì Dove c'è il mio furgone Ok Sì sì Mettila dove c'è il mio furgone Poi vieni a piedi Il furgone Questo qua Lo mettiamo Per di qua Dietro l'ambulanza E chiamiamo tutti i corridori Come si dicono Ok Luigi è pronto a fare Da capo 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 lista E sono arrivati i corridori Qui abbiamo Jasmine Gino No questo è Non penso si chiama Gino Si chiama Maria Carlo Poi abbiamo Federica Patrizia Giuseppe Carlo Antonio E Domenico Perfetto E io A me Io che auto prendo Ah io mi prendo L'auto L'autoambulanza Io mi prendo L'autoambulanza E va bene Prendi l'autoambulanza Vai Allora Luigi parti E via Con questa super gara Giro d'Italia 2 1 Pa Pa Vai Si parte E là Così lento No aumenta un po' La velocità Aumenta a 10 10 è quella? Sì Aumenta A 13 Io accendo le sirene Sì sì Anche io Ci segue anche quello lì Guarda che bel paesaggio Ci segue anche quello lì Della camionetta Che guidavo io Prima No no Non accendo le sirene Altrimenti qui Succede un disastro Anzi Non facciamo che Scusi signore Non ci serve lei Non ci segue Se no È un casino Vai Io faccio Il chiudifila Va bene? Va bene Io controllo Che tutto vada bene Però C'è uno qua Che Si ferma in continuazione Ma ti stai fermando? No No Dimmi di no Per favore Perché se no questi Vediamo tutti Cosa stanno facendo Beh si sono distanziati Già un botto Mi sa che il primo Arriverà prima E l'ultimo Arriverà ultimo Perché ho questo dubbio Boh Ah mi metto qua Che così dopo Chiudo la strada Con l'auto Della polizia Grandissima Sì Abbattiamo le mani Ma vanno stralenti Questi Questo più che giro d'italia Mi sembra Il giro degli anziani Il giro degli anziani Con calma Eh Tanto non sei Non sei l'ultimo Guarda quanto è fiero Oh ma stai facendo Una passeggiata O stai facendo Il giro d'italia Tu Grandissimi 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 Un giorno Lo faremo con le motocross Va bene Lasciate un bel Mi piace a questo video Se volete Il prossimo giro d'italia Con le motocross Il prossimo gp Il prossimo gp Ah no aspetta Aspetta Prima di No tu continua ad andare Non sentire I miei Aspetta aspetta Sono qui Con una autoambulanza Che sto chiudendo Sto chiudendo La strada Ma sei arrivato Almeno alla prima curva Ancora o niente No no quasi Mancano 50 metri Mancano 50 metri Ragazzi Raga questo è il giro d'italia Cioè quando mai l'avete visto Il giro d'italia Su farmi un simulator 19 Qui tutto vi porto Io vi porto il giro d'italia Vi porto qualsiasi cosa Salve signore Mi raccomando Allacciare le cinture E indossare il casco Però qui C'è scritto Sull'ambulanza Indossare il casco E poi nessuno Che lo indossa Il casco Sulla bici Mi raccomando collega Chiuda bene la strada Qui a destra Ah è vero Lì Meno male che ci sono i colleghi Eh oggi non sono con il mio Fiat Ducato Oggi sono con una Autoambulanza un po' sportiva Per questa gara Anche se Non è tanto necessaria Un'ambulanza sportiva Eh però Ripetendo Gli atleti Sono di una certa età Bisogna Prima di tutto La prevenzione Non vorrei che qualcuno Venissi un infarto Scusi Però la prevenzione Questi non indossano il casco Eh ma Andiamo molto Ad agio C'è l'ultimo Che non ti dico Dov'è L'ultimo Ancora la partenza Praticamente Ma guarda Quanto sono distante Quando collega Quanti colleghi hai lì Uno Ah tra l'altro Abbiamo Avete visto La BMW Della polizia Di Antonio Mi ha detto di provarla Sì c'è ancora Molto da sistemare Però è già qualcosa Per esempio La scritta La devo girare Forse ragazzi Allora Ho preparato La sirena Per L'ambulanza Che è quella lì Italo-americana Che l'avete già sentito Ma adesso Vediamo se riusciamo A fare anche La Una sirena Un po' Più carina Per i carabinieri La polizia Che è sempre Buonasera colleghi Buonasera colleghi Buongiorno Anzi buongiorno Vediamo chi è È una donna O è un uomo Il primo Vediamo Ti raggiungo Facciamo un po' Di telecronaca Perché qui L'ambulanza Un po' Si annoia Stando sempre dietro Eh davanti Sono belli vicini Dietro Distanti tra di loro Un chilometro Buongiorno colleghi Beh io non sono Un'ambulanziera Buongiorno Ah c'è una signorina Davanti Salve Fratello Come va fratello Tutto bene? Bene bene Non ha le sirene Accese lei? Accenda le sirene Accenda le sirene Che dobbiamo Avvisare la nostra presenza Salutiamo qui Il nostro collega Lombardo Che è venuto in supporto È Lombardo De Bressa Noi qua Con la nostra Automobile Rianimazione Ma è messa Avviene un infarto Complimenti Fortissimi Siete velocissimi Grandissimi Ma aspetta Ma 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 Qui stanno Usando i cheat Luigi Perché? Non muovono i piedi Stanno utilizzando Un'auto E Una bici elettrica Oh Qui tutti squalificati Sì Guarda Non muovono i piedi Anzi C'è chi ha il piede Al piede deforma Addirittura Addirittura Allora Quindi Ecco Io sono arrivato Quasi all'arrivo Eh Quando sei arrivato All'arrivo Dimmelo Eh Che qua Dobbiamo Dobbiamo Indir Indir Io ho sorpassato L'arrivo Io ho sorpassato L'arrivo Andiamo a vedere L'arrivo Dai Vediamo chi arriva Primo Vabbè Non penso che ci siano Stati dei sorpassi Eh Però Non si sa mai Nella vita Fate attenzione Arriva Poderak Arriva Poderak Arriva la prima Vincitrice Due donne Al volante No Come ti dice Vai Tu Vai Continua Sennò si fermano Dietro Sì 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 Complimenti Congratul Oh Cavolo Sto cadendo giù Dal ponte Aspetta Oddio Sono incastretto Non posso vedere Chi arriva Vabbè Comunque Come no Sono arrivati i primi tre Arrivata l'auto Dell'ACI Arrivato il quarto Ma sono tutte donne Le prime Oh Le donne Sono le persone Quelle più forti Gli uomini Sono gli ultimi Cavoli E' arrivato il penultimo E' arrivato l'ultimo Sì E si è fermato Si è fermato Che è successo Perché si sono fermato E' morto uno E' morto E' morto uno Chiamato un'ambulanza Ah no Sono io l'ambulanza E' morto uno Che succede E' svenuto E' svenuto Accendiamo le sire Corri Corri Arrivo Anch'io posso arrivare Sì sì Arriva Arrivo Oddio questo si è sentito male Dove è finito Arrivo arrivo Si è buttato No si è buttato dal ponte E' troppo tardi fratello Si è buttato dal ponte Come si è buttato Si è buttato dal ponte La bici Rianim La bici c'è Rianim Miramolo Ma si è buttato Gio dal ponte Piccolo Addio piccolo Ancelo Punto esclamativo 1 No fratello E' finita male Ma tu avevi quest'auto Non avevi un'altra auto No no Avevo cambiato auto Vabbè comunque Uno è morto Gli altri Forse anche gli altri Che non li vedo più Vediamo se riesco A vederlo E' lì è giù Come no E' lì non lo vedi E' giù per te No Oddio No no Sono vivo Sono vivo Sono vivo Non preoccupare Fratello Comunque uno è morto Quanti ne sono sopravvissuti Uno Due Ne sono sopravvissuti quattro Gli altri tre Su due Gli altri due no Quattro Sei Quattro su sei Sono vivi Gli altri due sono morti Mamma mia Un brutto Fratello Qua pensavo Cioè E' stata una gara lentissima Però Hanno avuto il coraggio Di morire pure Cioè Io l'ho detto Che Io l'ho detto a sto ponte Dovevamo mettere qualche protezione Forse Dovevamo fargli fare prima Un giro di Ricognizione No Eh sì Subito Ma Poi a che velocità andavano Ci sono proprio Si sente Lo sento di qua Il fiatone di quello davanti Eh sì Andiamo a vedere Questa qui Senti Senti Fa Questa dovrebbe essere Dovrebbe essere Federica Federica Io vedo Io vedo che è un uomo Però A meno che Federico Con A meno che A me sembra una femmina A meno che Federica Con Allora Scrivete qui nei commenti Se questo è un maschio E sta Federica Con la sorpresa Secondo me Vabbè Comunque ragazzi Lasciate un bel mi piace Al video Se volete A un prossimo episodio Qui sotto in descrizione Trovate il link Del modo Trovate il link Del gioco scontato Ok Ma che è la pubblicità Quello che c'è Delle medicine In ogni caso Iscrivetevi al canale E veramente Lasciate un bel mi piace Se vi piace questa categoria E scriveteci qui sotto Nei commenti Che tipo di Lavoro dobbiamo fare Prossimamente Se dobbiamo fare Scortare delle Motocross Che tipo di gare fare Magari lo facciamo con voi Non con Delle persone Che si suicidano Tipo qui Vabbè E niente Io vi saluto E noi ci vediamo Alla prossima video Ciao Ciao a tutti 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 Ciao a tutti